la maniera più complessa esatto da voi sempre si ricorda che da portare alla capiglia alla capiglia questa roba quasi questa è tutta la roba che ci serve facciamolo ora da portare ok mettete per il piede un po' vaiare ok la posizione voi la volete la vasta in avanti un po' di avanti un po' di 10 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 se sto troppo lontano io lo metto lei non è ma neanche io come il mio obiettivo è rostare a giù io devo andare a contatto quando mi ha contatto il mio contatto deve essere all'interno quindi metto le mani all'interno qui comando io qui comando lei quindi prima volta a contatto vado a cercare qui non puoi fare niente i passaggi tu non me li faccio quindi la base è andare qua guardalo metto l'avversario un po' più basso del tuo quindi sto qui perché io lo controllo se le più muove con le strane le gambe io mi abbatto in base alla tua parte da bolletto da bolletto la bolletto la bolletto la bolletto prima la faccio poi ve la piega la mia guarda la mia gaffe che sta avanti che è la guardia va al centro delle tue tante quindi prima volta la muovo perché lei la marchetta non è stata questa con me quindi io prima volta la muovo la mia gaffe che fai da fare è abbassare io abbasso la pezza quando si rialza metto la mia gamba e metto le tante guardate come sto parlando di nuovo leggermente abbassate non voglio vedere guai su tutti i mani così entro così alle gaffe e così le fuggono le tante le tante le tante quindi le gambe sempre abbassate caricate il mio movimento deve essere dispita in avanti quindi la gamba è caricata io lo muovo porto in giù quando si è alta pede all'interno la mia spalla va nel suo bacino a sbattere le mie mani vanno dietro non vanno qua perché poi le tante si può difendere qui cade quindi le mie mani vanno dietro le due ginocchia per me metterla qui vi lanci porto in giù quando si rialta io entro a mia spalla dalla porta e vado l'amante in avanti si rialta adesso la mia gamba da mezzo le sue guardate come sto con il loro colpetto ha partato un soccolo col culo forza giù caricata con le gambe i pesi spin non vedi così non vedi così la porta è finita non lo caricato e portarla avanti quindi abbatto la pezzata si rialta entro batto con la palla le gambe caricate spin faccio altro che fine e porto giù e porto giù la pezzata ma ci accoppiamo facciamo proviamo ok portarla portarla verso di te altrimenti tu mi entri mi auto amato quindi lo porto giù lui si alza io entro la spalla la spalla va in avanti le mie mani tiro il corpo va in avanti lui deve cadere se non cade va davanti 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 la spalla ora allora l'avversario si è fatto se no si si mette così l'avversario si mette così come faccio a prenderlo cioè se lui è troppo fatto non posso fare così altrimenti entro vuol chiedere aperto e lui mi schiacci io vado in giro mi fa la loss come chiamati pro 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 che ti devi imparare non diciamo ti metto alle gambe l'italiano comunque quindi che faccio io intanto lo sbilancio lo porto giù ma lo porto giù forte quando lo sbilancio probabilmente sta risalendo piede all'interno il mio ginocchio vai e ci metto il suo lato vado qua come l'hai fatto tu e l'altro non è in avanti quindi va a basso lo sbilancio piede in avanti faccio un passo mi infilo con la spalla così allora mi infilo così guardate la mia schiena come è attaccata a lui la mia spalla va a sbattere qui con il suo bacino guardo di volta in avanti non così così poi mi chiedo in giro dei bigliortini guardate 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 le volte verso di lui quando fate veloce la tecnica non può chiudere niente quindi io passo lui ritorno entro sbarco le mie mani tirano verso di me la spalla va verso di lui quindi il mio corpo si proietta verso di lui quindi vi contate potete fare anche l'individuale senza passo un passo appoggi i ginocchi e l'altro avanti guarda come se non si sta bene con il bacino non sto così non sto così perché non sono stabile devo stare stabile come si attaccato al corpo il mio corpo deve aderire al suo qui poi c'è la la compressione riprogramo così fatto mettiamoci più fatti poi giro anche a terra stamattini ok riprogramo così Grazie a tutti. 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 Ehi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.